CISTERNAZI Incidente mortale ieri a Ragusa all'altezza dello svincolo per Fortunio Cisternazzi a perdere la vita Angelo Bagieri dipendente dell'ASP di 60 anni che viaggiava sul suo scooter. CISTERNAZI La procura di Caltagirone ha disposto il sequestro dell'impianto satellitare MUOS di Niscemi per violazione del vincolo paesaggistico presente nella riserva della Sughereta. Rischio depotenziamento per gli ospedali di Comise e Scicli, l'allarme è lanciato dal deputato regionale Orazio Ragusa che ha presentato un'interrogazione all'Ax. Botta e risposta fra l'associazione Fareverde di Vittoria e l'esperto del sindaco Fabio Prelati a proposito della mancanza di pulizia al parco di Serra San Bartolo. L'assessore alla pubblica istruzione Ghietano Bonetta ha visitato il reparto di pediatria di Vittoria ed in particolare la scuola in ospedale, servizio rivolto ai piccoli degenti. Un saluto dalla nostra redazione come avete sentito dai titoli l'apertura è dedicata all'incidente mortale che si è registrato ieri a Ragusa all'altezza dello svincolo per Fortunio Cisternazzi a perdere la vita Angelo Baieri dipendente dell'ASP di 60 anni. Con lo scooter si è scontrato con un'auto ed è morto sul colpo. Sentiamo. Era a bordo del suo motociclo Piaggio Beverly quando per cause ancora in via di accertamento si è scontrato con una Toyota Yare si condotta da una ragusana di 32 anni. Per Angelo Baieri, 60 anni, dipendente dall'ASP 7, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto infatti sul colpo come ha constatato il medico legale dopo l'ispezione cadaverica. Il sinistro si è verificato il ripomeriggio sulla provinciale 60 per Santa Croce e Camerina nei pressi dello svincolo Fortunio Cisternazzi. Baglieri procedeva in direzione del capoluogo Ibleo mentre la conducente dell'auto era diretta a Santa Croce e Camerina. Durante la manovra di svolta allo svincolo il tremendo impatto tra i due mezzi. La peggia è toccata allo scooterista ragusano, infatti i sanitari del 118, arrivati da lì a poco, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La guidatrice della IARS invece è rimasta illesa anche se visibilmente scossa. E a causa del grave incidente, il traffico sull'artere è rimasto interrotto per un paio di ore con i mezzi fatti deviare per si incontrare da Bruce in direzione di Marina di Ragusa. I due veicoli, come da procedura, sono stati in orte posti sotto sequestro. Angelo Baglieri, che lascia moglie e figlio, lavorava come autista presso l'ASP di Ragusa e la notizia della sua tragica scomparsa ha gettato nello sconforto amici e colleghi di lavoro. Si è discusso di ordine pubblico ieri sera a Santa Croce nel corso di un vertice indetto dal sindaco Franca Iurato e dal presidente del Consiglio Comunale Maria Zisa a partecipare al confronto tutte le forze politiche presenti in città. Il sindaco di Santa Croce Camerina Franca Iurato e il presidente del Consiglio Comunale Maria Zisa hanno incontrato ieri sera i rappresentanti delle varie forze politiche cittadine. Al centro la questione ordine pubblico. Il vertice è stato organizzato a seguito della rissa scoppiata in centro durante i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. In primo piano le ricadute del patto Santa Croce Sicura, per cui è stata prevista la destinazione di 10.000 euro. Queste somme potrebbero essere utilizzate per il potenziamento della telesorveglianza già esistente, così da fornire alle forze dell'ordine un numero maggiore di immagini. Durante l'incontro è stata valutata anche l'ipotesi di poter utilizzare una parte dei fondi per richiedere una maggiore presenza, soprattutto a partire dalle ore 22, delle forze dell'ordine. Ciò non toglie, ha detto il sindaco, che in autonomia l'amministrazione comunale non possa disporre controlli più accurati da parte della Polizia Municipale, che ringraziamo per l'attività fin qui svolta. Al termine del vertice è stato poi deciso di convocare un ulteriore incontro a fine mese, magari ampliandolo agli esponenti di associazioni di categoria, in cui si farà ulteriormente il punto della situazione. Intendiamo mettere a punto, spiega ancora il sindaco, una serie di iniziative condivise, assegnando anche un ordine di priorità, a partire da quelle di competenza comunale, per passare a quelle sovraordinate. E' chiaro che prestare la massima attenzione ai vari aspetti della legalità e della sicurezza, conclude il sindaco, è una questione che riguarda tutta la cittadinanza senza alcuna colorazione politica. Ieri, su una segnalazione al 112 ad Acate, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un istituto scolastico di via Agrigento, dove hanno constatato che nella nottata appena trascorsa era stato perpetrato un furto. In particolare i gnoti, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell'immobile, asportando 5 computer portatili ed un videoproiettore. Il grave danno in corso di quantificazione ammonterebbe a svariate migliaia di euro. La senatrice Venera Padua è tra i firmatari dell'ordine del giorno, che d'intesa con il governo è stato approvato all'Aula del Senato per ampliare gli effetti del DDL anticorruzione, allo scopo di favorire la trasparenza e prevenire ogni forma di illegalità e corruzione all'interno delle aziende sanitarie. Esiste già una normativa, spiega la senatrice Padua, alla quale le aziende sanitarie si attengono, ma è necessario che questo non si esaurisca in un mero adempimento burocratico e diventi invece patrimonio comune di ogni operatore e di ogni cittadino. La Procura di Caltagirone ha disposto il sequestro dell'impianto satellitare MUOS di Niscemi, un sequestro disposto per violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta presente nella riserva naturale. E per chi ha lottato in questi anni contro questa installazione è indubbiamente una vittoria. Un provvedimento definito storico e che arriva a qualche settimana di distanza dalla decisione del TAR di Palermo che ha accorto i ricorsi dei comitati MUOS, si tratta del sequestro dell'impianto satellitare di contato Ulman Niscemi, sequestro disposto per violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta esistente in una riserva naturale e al quale sono sottoposte anche le costruzioni di tipo militare. La pratica è stata già notificata al comandante statunitense presente alla base di Sigonella a Catania e per le associazioni, i comitati e lo stesso sindaco di Niscemi che si sono battuti per anni contro il MUOS si tratta sicuramente di una grande vittoria e non appena la notizia si è sparsa nel centro nisseno a farsi sentire per prima sono state le mamme no MUOS letteralmente entusiaste per il provvedimento della procura di Caltagirone mamme che hanno invitato polemicamente i politici compromessi a farsi una ragione perché il MUOS hanno ribadito è pericoloso e abusivo. Un provvedimento, quello della procura di Caltagirone, che arriva intanto a pochi giorni dalla manifestazione nazionale in programma sabato prossimo alla zona incriminata e organizzata al comitato. Per il sindaco Franco Larosa sarà una giornata di festa perché ha detto passeggeremo nella sugheretta respirando i profumi della natura. E intanto, commentando il provvedimento di sequestro dell'impianto satellitare di Niscemi disposto dalla procura di Caltagirone il vicepresidente nazionale di avviso pubblico Piero Gurriere ha espresso compiacimento per la decisione. Una scelta rileva Gurrieri che conferma ulteriormente la fondatezza delle ragioni sulle quali il movimento non MUOS ed alcuni enti locali hanno fondato importanti iniziative di contrasto anche in sede giudiziarie culminate nella recente sentenza del Tar della Sicilia che ha annullato gli atti del procedimento di autorizzazione e che sorprendentemente risulta essere stata appellata dal Ministero della Difesa italiano. Gurrieri ha pertanto espresso gratitudine ai comuni e ai comitati che si sono fin qui spesi per una giusta causa. Rischio depotenziamento per gli ospedali di Comise e Scicli è quello paventato dall'onorevole Orazio Ragusa che ha presentato a tal proposito un'interrogazione all'Ars per chiedere che fine abbia fatto la legge che prevedeva invece un aumento dei posti letto. Facendo seguito ad un incontro avuto di recente a Palermo con l'assessore regionale Lucia Borsellino il deputato regionale Orazio Ragusa ha presentato un'interrogazione all'Ars per chiedere alcuni chiarimenti in merito agli ospedali di Comise e di Scicli. La riforma ormai diventata legge, rileva Ragusa, prevedeva un aumento dei posti letto ma così non sembra perché la delibera dell'Asp comporta di fatto ulteriori tagli prevedendo ad esempio il ridimensionamento dell'attività chirurgica al Busacca di Scicli. Per cui credo che si stia realizzando, rimarca Ragusa, un pericolosissimo depotenziamento dei due ospedali blei, tanto da arrivare al punto di dover chiamare Regina Margherita e il Busacca non più riuniti ma semplici ambulatori e dunque privati di ulteriore personale specialmente infermieristico. E questo in conseguenza del fatto che si sta riducendo ancora una volta il numero complessivo dei posti letto in provincia di Ragusa. Il parlamentare regionale ha quindi presentato l'interrogazione per chiedere quali azioni vuole intraprendere la regione siciliana per far rispettare quanto contenuto nella norma approvata e per bloccare il depotenziamento dei servizi sanitari nel territorio ibleo. Una situazione quindi, rileva e conclude Ragusa, da affrontare senza ulteriori indugi per evitare appunto tagli inaccettabili. Occorre far rispettare la graduatoria del personale autista soccorritore del servizio 118. Così l'onorevole Giorgia Senza che interviene con un'interrogazione presentata stamani a Lars sulla delicata vicenda del personale 118. A fronte di recenti spostamenti senza ragioni apparenti di equipaggi provenienti da altre postazioni e che non conoscono quindi la zona di lavoro assegnata rileva assenza, è necessario adottare provvedimenti che facciano cessare il turnover rispettando la graduatoria. Dall'8 al 14 aprile i sindaci dei comuni blei si mobilitano per sensibilizzare i cittadini sulle criticità di bilancio e programmazione che sono chiamati ad affrontare e risolvere. Criticità dovute, recita una nota del Comune di Ragusa, ai progressivi tagli regionali e statali derivanti dai nuovi assetti territoriali con l'abolizione della provincia regionale di Ragusa. E per illustrare il programma delle azioni di protesta su tutto il territorio provinciale, martedì 7 aprile, saranno gli stessi sindaci blei a spiegarlo nel corso di una conferenza stampa. Botte risposta a vittoria tra l'associazione Fareverde e l'esperto del sindaco Fabio Prelati a proposito della mancanza di pulizia che ci sarebbe da tempo presso il parco di Serra San Bartole. Alle dichiarazioni di ieri di Prelati risponde oggi Fareverde. Non è nostra intenzione alimentare inutili polemiche ma il signor Prelati ha perso un'occasione per evitare ulteriori brutte figure e il passo iniziale della replica di Fareverde all'esperto del sindaco che era intervenuto sulla questione delle fascette di plastica lasciate abbandonate nel sito dagli organizzatori di una corsa campestre. Per noi, rilevano dall'associazione Fareverde, la natura da rispettare e la nostra non è stata una denuncia ma un semplice post su Facebook successivamente riportato da alcune testate ma non c'era alcun attacco diretto all'amministrazione comunale, solo una constatazione oggettiva della mancanza di riguardo del bene comune per cui prendiamo atto che dopo oltre due settimane la nostra segnalazione, solo i cassonetti di Serra San Bartolo sono stati svuotati. Siamo al conto allora, prosegue Fareverde, e lo diciamo senza alcuna inutile polemica che non serve. Purtroppo il territorio esprime degrado da ogni angolo, discarica abusiva, strade dissestate, mure e palazzi imbrattati, illegalità diffuse, arroganze, inciviltà latente. L'associazione ambientalista non si ferma qui e anzi rileva che in privato lo stesso Prelati avrebbe risposto che questa non è la descrizione della mia città e anche se lo fosse non lo attribuirei a chi amministra ma sarebbero in adempienza dei cittadini, il che significa per Fareverde affrontare le cose preferendo nascondere la polvere sotto il tappeto. L'augurio infine della situazione ambientalista e questo sì sembra un colpo tranciante verso Palazzo Iacono è che i prossimi amministratori abbiano più rispetto per se stessi e per il territorio che amministrano. Alcuni telespettatori continuano a telefonare alla nostra redazione chiedendo di girare all'amministrazione comunale le loro rimostranze sullo stato di degrado in cui verse il campo Gurrieri. E' mai possibile, si chiedono a questi telespettatori, lasciare una struttura del genere nel più completo abbandone, soprattutto alla merced di vandali o ragazzi che incuranti dei possibili pericoli vi accedono furtivamente per trascorrere il loro tempo. L'assessore alla pubblica istruzione Gaetano Bonetta ha visitato il reparto di pediatria dell'ospedale Guzzardi di Vittoria dove è attivo da anni il servizio di scuola in ospedale rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia ed elementari. Sentiamo. Visita ieri dall'assessore Gaetano Bonetta alla pediatria del Guzzardi dove dal 2007 è attivo il servizio di scuola in ospedale per i bambini della scuola dell'infanzia ed elementari. L'esponente di Giunta e Parina ha potuto verificare che i bambini ricoverati sono curati anche dal punto di vista educativo e psicologico e si tratta di un servizio creato su iniziativa dalla dirigente scolastica del primo circolo didattico Angela Lombardo in collaborazione con il primario di pediatria Fabrizio Comisi. Servizio di grande valore ha dichiarato lo stesso Bonetta ma che potrebbe essere migliorato nelle strutture. L'idea che è condivisa dalla stessa Lombardi e da Comisi è quella di creare in pratica un micro presidio educativo all'interno dell'ospedale in modo da erogare formazione non solo per la fascia che va dai 3 ai 10 anni ma anche fino ai 16. L'assessore Vittoriese pensa in particolare ad una struttura attrezzata con il computer che consenta anche ai ragazzi delle scuole medie fino all'età dell'obbligo scolastico di fruire delle lezioni in ospedale. Obiettivo è quello di aumentare il ventaglio dell'offerta formativa coinvolgendo i decenti di età compresa tra 0 e 16 anni. Durante la visita alla quale hanno partecipato anche le insegnanti che assicurano il servizio nel reparto sono state consegnate dalle uova di Pasqua ai bambini ricoverati. La deliberata dalla giunta municipale è l'istituzione di uno sportello turistico al castello Enriquez. Lo sportello sarà gestito dal personale dell'associazione Grotte Alte con cui il comune ha già siglato un protocollo d'intesa. La giunta municipale di Vittoria ha deliberato la stipula di un protocollo d'intesa con l'associazione Grotte Alte per l'istituzione di uno sportello turistico cittadino. Lo sportello che sarà attivato all'interno del castello Enriquez sarà gestito dal personale dell'associazione che opererà gratuitamente e curerà i rapporti con le agenzie di viaggio, con gli operatori turistici e con le associazioni culturali e ricreative del territorio. Tra i compiti dell'associazione rientrano le attività di comunicazione e pubblicità, la distribuzione di materiale turistico, l'attività di supporto logistico in occasione di iniziative di promozione, la predisposizione di itinerari turistici, l'attività di supporto organizzativo per la partecipazione del comune ad eventi e fiere inerenti al settore turistico ed ancora la realizzazione di un portale web informativo rivolto ai servizi turistici territoriali, la creazione di un meeting point dislocato a Vittoria e Scoglitti e l'utilizzo delle proprie guide naturalistiche in occasione di escursioni e visite. Il protocollo avrà la durata di tre anni. È un servizio che mancava nel nostro territorio, ha dichiarato l'esperto Fabio Prelati, che per oltre sei mesi ha lavorato al progetto e che ci consentirà di sviluppare la promozione turistica in maniera più organica ed organizzata, grazie al coordinamento dell'associazione Grotte Alte, che opera già da diverso tempo con pregevoli risultati nella valorizzazione delle nostre bellezze naturali e del nostro patrimonio Liberty. Il personale dell'associazione coordinerà una rete di operatori turistici allo scopo di arricchire l'offerta turistica e in tal modo il territorio diventerà più appetibile per i buyer del settore turistico. Entrano nel vivo le iniziative legate alle festività pasquali di Vittoria. Ieri in particolare sono stati presentati il Dramma Sacro e il Resurrectio. Come sempre alcune novità arricchiranno i testi tradizionali. Presentate ieri l'edizione 2015 del Dramma Sacro e della Resurrectio, in programma domani, venerdì e domenica 5. Ad incontrare la stampa il regista Massimo Leggio e il suo braccio destro Andrea Traina e poi Giovanni Macca per il Comitato Basilica di San Giovanni, il Vice Sindaco Filippo Cavallo, il musicista Aldo Raffaele e l'arciprete Don Vittorio Pirillo. I vittoriesi si mettono lungo il percorso della processione ma poi partecipano anche al Dramma Sacro ed è tutto il giorno della passione del Signore. e guardando il volto, l'atteggiamento della gente si coglie che c'è per un verso la gioia perché ha festo il Signore ma si coglie anche una partecipazione interiore perché stare lì anche quando fa freddo e poi anche sentendo le battute, le parole, e il ripetere anche gli stessi versi e c'è chi anche piange. Non è un fatto così molto, però c'è una partecipazione. Leggio e Traina hanno illustrato le novità di quest'anno, fra queste il prologo incentrato sulla contemporaneità e che si avvale dei testi del poeta vittoriese Emanuele Giudice e di alcuni passaggi scritti dagli stessi giovani attori dei laboratori teatrali della zona. Altra novità, le musiche quest'anno originali e scritte da Aldo Raffaele. Il Dramma Sacro viene poi rappresentato in piazza per tutti quindi la gente si aspetta delle cose precise e le vuole ritrovare tutti gli anni. L'idea però è quella di contestualizzarlo, di creare attorno al Dramma Sacro una base su cui puoi poggiare questa citazione di un testo antico. E questa base non può che partire da una considerazione sul presente, quindi sulla nostra condizione attuale. Vi ricordiamo che nella giornata di domani sia la processione mattutina che poi il Dramma Sacro saranno seguiti in diretta dalle nostre telecamere. Per quanto riguarda la mattina la diretta inizierà intorno alle 11.30 mentre la sera seguiremo il Dramma Sacro e quindi intorno alle 20.30. Il decoro prima di ogni altra cosa, soprattutto quando ci rivolgiamo ai visitatori e ai turisti, lo dice il presidente dell'Associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, anche in qualità di rappresentante del Laboratorio Politico-Culturale 2.0 dopo aver verificato lo stato di incuria in cui si trova il parcheggio di Largo San Paolo a Ibla. Considerato che stiamo parlando di un sito, afferma Chiavola, che costituisce un vero e proprio biglietto da visita per il quartiere barocco, mi chiedo come sia possibile che l'amministrazione comunale non si sia presa ancora la briga, considerato tra l'altro che essendo la settimana di Pasco è previsto un ulteriore afflusso di persone, di rendere un minimo presentabile la zona in questione. Parliamo adesso di sport. Il karateka vittoriese Giuseppe Panagia si è aggiudicato una medaglia d'ora ed una di bronzo alla Junior Open di Karate, svoltasi a Follonica in Toscana, a darsi battaglia a circa 1200 atleti. Giuseppe Panagia continua nella sua collezione di trofei e medaglie in giro per l'Italia. Lo scorso fine settimana ad esempio a Follonica ha vinto una doppia medaglia, ora è bronzo, alla prima edizione dell'Italia Junior Open di Karate, abbinata al 14esimo Open di Toscana e al quarto trofeo Nelson Mandela, a darsi battaglia a circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia, ma anche da altre nazioni, tra cui Olanda, Danimarca, Austria e Svizzera. L'atleta del Karate Shotokan di Vittoria, allenato dal maestro Santo Torre, si è dunque imposto nella sua specialità, il kata individuale, nella categoria Junior, disputando una gara esemplare e mantenendo alta la concentrazione, durante le varie fasi alla performance eseguita sul tatami e battendo tutti gli avversari con punteggi altissimi. In finale ha poi lottato e vinto contro il lombardo Luca Brescia, infliggendogli un secco 5-0 e conquistando la medaglia d'oro. Subito dopo Panagia gareggiato con avversari di categoria superiore e nonostante i suoi 16 anni si è ben distinto vincendo la medaglia di bronze e perdendo solo il combattimento contro l'atleta di punta della nazionale italiana, vale a dire Gabriele Petroni. Soddisfatti naturalmente al termine delle gare, lo stesso maestro Torre, la delegazione che ha accompagnato Panagia e anche i tecnici della nazionale presenti alla manifestazione. Prossimo impegno per il campioncino vittorisi a maggio con la nazionale giovanile in vista dei campionati di categoria in programma ad Ostia. E in chiusura rivediamo insieme i fatti in primo piano. Incidente mortale ieri a Ragusa all'altezza dello svincolo per Fortunio Cisternazzi a perdere la vita Angelo Bagieri dipendente dell'ASP di 60 anni che viaggiava sul suo scooter. Il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto, una ieri sverso condotta da una ragusana di 32 anni. La donna è rimasta illesa benché visibilmente scossa. La peggia è quindi toccata all'uomo che ha perso la vita sul colpo. La procura di Caltagirone ha disposto il sequestro dell'impianto satellitare MUOS di Niscemi per violazione del vincolo paesaggistico presente nella riserva della Sughereta. Dopo che il TAR di Palermo ha accolto i ricorsi dei comitati, quindi un'altra vittoria per il fronte dei contrari alla costruzione dell'impianto satellitare. Fra loro anche il sindaco Franco Larosa che parla di un giorno di festa. Rischio depotenziamento per gli ospedali di Comise e Scicli. L'allarme è lanciato dal deputato regionale Orazio Ragusa che ha presentato un'interrogazione all'ARS. Per Ragusa in provincia si sta mettendo in atto un depotenziamento dei due ospedali, tanto da dover chiamare il BUSAC e il Regina Margherita non più riuniti, ma semplici ambulatori, privati anche di personale. Botte risposta fra l'associazione Fareverde di Vittoria e l'esperto del sindaco Fabio Prelati a proposito della mancanza di pulizia al parco di Serra San Bartolo. In particolare Fareverde aveva puntato l'attenzione sulle strisce di plastica lanciate dopo la corsa campestra a replicare Prelati, che aveva spiegato come la situazione fosse stata risolta quasi subito. La polemica però non si è affatto sopita. L'assessore alla pubblica istruzione Ghetano Bonetta ha visitato il reparto di pediatria di Vittoria ed in particolare la scuola in ospedale, servizio rivolto ai piccoli degenti. Ad usufruirne in particolare i bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari, Bonetta ha accertato come i bimbi siano curati anche da un punto di vista educativo e psicologico, per l'assessore un servizio di grande valore. Ed è davvero tutto per questa edizione, grazie per averci scelto e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.